Siamo qui a Expo Trading con Licia Zagni di CSMT. Di cosa si occupa la sua società e cosa la CSMT è un centro servizio multisettoriale tecnologico di Brescia. Siamo all'interno del polo industriale bresciano e collaboriamo con l'Università dell'Istituto di Brescia. Facciamo appunto da ponte tra la ricerca e l'azienda per portare innovazione di tutti i processi. Ci occupiamo anche di formazione, quindi formazione più che altro nei suoi processi gestionali e in particolare sulla Lean Production. Abbiamo a novembre un Master per il Manager per l'eccellenza, quindi per questo periodo della quarta rivoluzione industriale vogliamo appunto formare una figura che porti l'azienda ad essere eccellente. Quindi saranno 300 ore in partenza a novembre, un corso molto esperienziale, quindi con project work, mini fabbriche, Lean Game, appunto sia persone occupate in azienda, quindi manager, ma anche appunto studenti sul corso post laurea. I vostri utenti trovano occupazione nell'ambito appunto scientifico dei loro studi? Sì, allora i nostri utenti sono più che altro già persone che già lavorano in azienda. Capita appunto di avere anche studenti che ha finito un percorso di laurea piuttosto che un diploma decidano di specializzarsi su alcune tematiche. Bene, ringraziamo Lisa Zaini che ha continuato a seguire con BAM TV. Ciao!